eccoci qua benvenuti a tutti quanti voi una diretta speciale auguri sì perché oggi sono qui con l'amico frank l'americano è qui con noi in questo momento ciao vittorio ciao mi sposto un po più in là vediamo se ci si vede buonasera a tutti benvenuti a tutti quanti voi da vittorio silesi da frank l'americano ciao a tutti speciale auguri oggi la trasmissione è dedicata a non diciamo no sono emozionato dopo 40 anni a fare auguri auguri angela buon compleanno alla signora angela sansaro la moglie del caro frank ornaldino sono qua oggi compie gli anni tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a angelina tanti auguri a te non andava angela senti aspetta aspetta visto che ci siamo sono le 18 e 25 senti visto che ci siamo che c'è anche il compleanno di roberto armieri si auguri amico laura antonacci auguri a laura aspetta 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 si auguri adele ramuzzi auguri riccardo nenna agnese magno maino e poi vediamo un po se c'è qualcun altro che ieri presenti o festeggiato il compleanno non gli abbiamo fatto facciamo oggi facciamo oggi allora i compleanno dei 100 sono davide rosito davide parisiero ciao frank ciao ciao davide capucino katia bucci mariana di lernia raimo cheitano di amadeus salutiamo giusy stella franco mariano aspetta che spengo il disco franco mariano sabino di rissanti valentina gallo auguri gli altri li facciamo domani o magari un altro giorno domenica approfitto anche per ricordare che domenica saremo con radio show speciale domenica delle palme poi e poi poi apre finalmente il caffè italiano appuntamento alle ore 20 in via camur 119 a trani dove franco e nicola pansittà vi aspettano con lo staff del caffè italiano per una nuova sede la nuova apertura ovviamente ci sarà il nostro franco ormandino con il suo caffè svevo e se volete bere un buon caffè recatevi a domenica non si paga caro vittorio l'invito è a partecipare non solo domenica ma anche durante il resto di altri giorni per prendere non solo il caffè ma anche per fermarsi al caffè italiano tanto è vicino alla stazione intanto è facilissimo la raggiungere assolutamente a piedi a piedi non con la macchina domenica ore 20 appuntamento per il giorno 14 aprile detto questo cantiamo questa trasmissione speciale auguri oggi innanzitutto ringrazio i nostri amici della cooperativa l'usmae ciao domenico ferreri ciò colato bianco ciao piero tedeschi in via superga trani pm auto ciao matteo papagno ciao alla nostra amica maria dei bari ovviamente il nostro caro domenico causarano di elettronica 2000 in via medio 57 ormai di sua memoria caffè svevo a traini lo trovate nei bar migliori ovviamente andate chiedete caffè svevo o se non ci vanno andate dalla torrefazione in viale della costituzione amici siamo nuovamente riprendiamo è stato un piccolo forse perché una distrazione senti ripresa stavamo dicendo il caffè svevo il caffè svevo lo trovate anche nella torrefazione in via nella costituzione zona pip andrea oppure via pisagna numero 4 perché c'è dora c'è dora c'è dora c'è dora là c'è mico c'è frank nel valeria pitturare hai dato la botta pittore ti voglio parlare e poi ringraziamo l'istituto moravia ovviamente alberto moravia in piazza dante ciao terri ciao giannino tito isabel di tutto di più via postulia patrani ciao giuseppe leone mio nipote anche collaboratore chi è chi è chi è pinuccio pappalettere ciao pinuccio auguri auguri pronto rispondo pinuccio auguri salutiamo anche il bacio nero a trani in via delle crociate al numero 49 e poi pizza fast number one in corso al cide dei gas per il numero 15 perfetto delta informatica in via istria al numero 21 a trani nei traessi dell'area la pietra dove sta quella strada sfasciata che non ancora aggiustano vabbè ma l'aggiusteranno via postulia detto questo se volete tutte le notizie le trovate su trani news con vittorio Cassinesi qualsiasi cosa e le segnalazioni che le potete fare beh adesso dai prima di tutto prima di tutto vediamo chi dobbiamo salutare vediamo chi sta in diretta vedete adesso un microfono ho capito chi sta in diretta chi sta in diretta c'è filomeno ci sarebbe anche il mio compligiorno filomeno auguri ciao maria elettronica 2000 sta guardando c'è elettronica 2000 ciao ciao maria a proposito c'è un'offerta martedì c'è una presentazione di alcuni prodotti andiamo insieme martedì andiamo perché c'è una bella presentazione poi c'è Alessandro ne è Alessandro ciao Alessandro no Cormio salutiamo Alessandro Tutta ciao ciao vieni a provarci quando vuoi venire e poi ovviamente salutiamo tutte quelle persone che si sono collegate che stanno guardando che si sa beh bella mezzoletta piena se la facciamo divertendoci come sempre noi siamo amanti fare si ci sentite bene ci vedete bene ci vedete rispondete facendo abbronzatissimo a proposito a proposito alle ore 18 e 30 mo proprio c'è tra adesso a minuti c'è l'inaugurazione dell'ambulatorio solidale San Giuseppe Moscati alla parrocchia Spirito Santo ecco quindi ecco per i parrocchiani per tutti quanti coloro che sono veramente dei paraggi possono andare in via Tornomeo adesso c'è la presentazione quindi noi auguriamo a tutte quelle persone che li faranno uso quelli che lo inaugureranno un bellissimo ritrovo barrocchia Spirito Santo a Tornomeo è una bella realtà è una bella cosa la utilizzeranno in molti e noi ci auguriamo che sarà una cosa che serve naturalmente alla comunità è bello è bello una bella cosa bravo a Tornomeo bravo a Tornomeo e bravi anche a quelli che hanno contribuito tutti ovviamente a quelli che gestiranno la struttura allora 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 noi siamo pronti cantiamo Pinky Big Rob Pinky Big Rob questa canzone la dedichiamo al signor Angela ne abbiamo ne tre oggi oggi tre Angela tutte per te tutte per te iniziamo con questa canzone di Adamo Alin 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 ah qui cantiamo tutti quanti per Angela e per Pina Steggia tanti auguri dai alla mia signora mi dedico questa canzone amore lo so vuoi partire dove vai amore sai com'è l'ho già capito e di fare come è Adamo e stanca di me e stanca di me se tu vorrai se tu vorrai ti lascio andare ti lascio andare ma voglio sentirlo ma voglio sentirlo dirlo da te dirlo da te se te ne vai Alin non so cosa farò se te ne vai Alin Alin non so come vivrò la libertà la libertà non ti spaventa non ti spaventa però sta attenta però sta attenta è quello che fai io faccio un sento ripetente la vita la vita la vita sai si vive in due lo so si vive in due a spese due a spese due lo capirai lo so che si è se due e adesso se te ne vai Alin vedrai vedrai ti pentirai e tornerai Alin lo so che tornerai non so per te e resto qui guardo partire ti guardo partire che posso fare che cosa posso fare ti aspetterò aspetta 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 giudica tu Alin se t'amo oppure no più di così Alin amare non si può giudica tu Alin se t'amo oppure no più di così Alin amare non si può giudica tu Alin se t'amo oppure no più di così Alin amare non si può giudica tu Alin se t'amo oppure no più di così Alin amare non si può giudica tu auguri Angela buon compleanno ma scusami Angela perché ti ha fatto innamorare questo qui dimmelo 40 anni 40 anni matrimonio sì 40 anni quest'anno 40 anni matrimonio lei di quanti anni con la nostra qualche annetto in meno però dai diciamo che siamo una coppia solida e ben e troppo innamorata allora la dedichiamo anche a Titti a te beh allora facciamo così in due quanti anni siamo dal 90 insieme fatti un conto sono 29 anni 29 anni siamo da tanto tempo insieme anche prima eravamo fidanzate ancora prima allora più di 30 anni di più di più facciamo 33 vabbè lasciamo perdere più di 30 anni comunque di matrimonio sono 29 per esattezza quest'anno perché l'hai fatto innamorare perché l'hai fatto innamorare sei ancora innamorato sentiamo fino a ieri perché l'hai fatto innamorare ma poi che così la devi dire e non mi hai detto che era un gioco che era un gioco che era un gioco non era un gioco cosa vale la mia vita se tu mi manchi a poco a poco perché mi hai dato le tue mani se adesso è mie ti allontani non so più ricominciare perché mi hai fatto innamorare d'innamorarmi proprio di te fra tanta gente ho scelto te che tu hai che donna sei che donna sei che donna sei se adesso te ne vai perché mi hai fatto innamorare perché mi hai fatto innamorare e non mi hai detto che era un gioco no no non era un gioco sono cotto da 40 anni cosa vale la mia vita 29 29 29 perché mi hai fatto innamorare perché mi hai fatto innamorare perché e non mi hai detto che era un gioco era un gioco gioco non so più ricominciare non so più ricominciare perché tu perché tu perché tu perché tu mi hai fatto innamorare eeeh ciao Angela ciao Titi direttamente da hai difeso il tuo amore lo hai difeso lo ho difeso lo ho difeso ah e allora senti la canzone dei Nomadi bellissima che racconta proprio questa storia sentiamo queste parole queste parole sono scritte da chi scritte da chi non ho visto più il sole il sole per amore di lei per amore di lei io le ho trovate io le ho trovate in un campo di fiori in un campo di fiori sopra una pietra sopra una pietra c'era scritto così ho difeso ho difeso il nostro amore il nostro amore c'era una data per me è il 9 agosto l'8 di maggio è 2 18 18 maggio lei era bella era tutto per lui era tutto per lui poi viene un'altra dei suoi le parti eh sì le strappi in mano via cosa poi sia successo cosa poi sia successo ho capito anche voi anche voi ho difeso ho difeso ho difeso ho difeso il nostro amore il nostro amore bellissima canzone un grande successo davvero tanti anni sono passati che in questa canzone le nomali andavano tantissimo c'era anche c'era anche aspetta aspetta io mi ricordo ma tu sei stato vagabona ma tu quanti figli siete? siamo sempre due sempre due ma sei rimasto figlio unico adesso? sì eh purtroppo purtroppo dico purtroppo quindi pascalino tu ci sta proprio eh no 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 io volevo proprio pascalino tu pascalino figlio unico figlio unico ora lo facciamo a tre ah vai 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 pascalino tu pascalino tu pascalino tu puoi te rire pascalino tu pascalino tu ciao torino bondelli saluta no non voglio restare ancora un minuto accanto a te anche se il mio amore sei solo con te muoio 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 se non ci sei ciao torino ciao a tutti gli altri che guardano la nostra diventata che mi porterà lontano tanto lontano da te one two non posso restare ancora un minuto accanto a te e hai calito mi dispiace amore ma non posso restare no muoio se non ci sei ma devo prendere il treno che mi porterà lontano e vuoi sapere perché 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 se stasera non sarò qui se stasera non sarò tornato a casa a casa ci sarà qualcuno che non dormirà sono figlio unico la mia casa è vuota senza te non posso restare non posso restare ancora un minuto accanto a te accanto a te mi dispiace amore ma non posso restare muo 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 se non ci sei ma devo prendere il treno che mi porterà lontano e vuoi sapere perché 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 se stasera non sarò tornato a casa ci sarà qualcuno che non dormirà sono figlio unico la mia casa è vuota vuota sono figlio unico la mia casa è vuota vuota pascalino tu pascalino tu pascalino tu pascalino tu pascalino tu pascalino tu fammi salutare l'amico vai 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 saluto vincezzo appruzzese ciao vincezzo ciao vincezzo voglio salutare anche un'altra persona si chiama marco di vari direttamente dalla permaflex ciao marco ciao giancarlo salutiamo paola salutiamo gli amici diciamo vogliamo salutare marisa coletta annunzio più bella eh guardo raccomando Nicola Ricchiuto sta guardando anche Nicola Ricchiuto sono tutti amici sono tutti amici che guardano qua ma poi le sorelle sai senti vogliamo leggere una notizia perché è importante che ogni tanto diamo qualche informazione perché la nostra la nostra trasmissione si è divertente di trattenimento ma qualche notizia ci devono essere qualche informazione la città di frani ci sono qualche titolo ecco giochi sportivi e studenteschi il liceo Valdemarovecchi di Trani eh trionfa anche in atletica su pista pensate hanno conquistato dodici medaglie quattro titoli provinciali battere le squadre femminili in finale regionale bravo bellissima notizia poi ieri è stata festeggiata la giornata del mare alla Lega Navale di Trani si con la scuola di Petronelli la scuola elementari poi ancora a Trani la prima iniziativa della neonata consulta giuridica della CGL si tenuto una tavola rotonda oggi alle 15.30 12 aprile presso il polo museale bene e poi ancora c'è stato anche un incontro credo ah no ci sarà tra qualche istante alle ore 19 dopo aver fatto l'inaugurazione l'ambulatorio sociale di San Giuseppe Moscati in via Tolomeo ripeto la parrocchia di Sperito Santo alle 19 ci sarà una tavola rotonda che è un convegno nella sala Ronchi della biblioteca Giovanni Bovio di Trani si su tutela dell'ambiente consumo del suolo e rigenerazione urbana ovviamente a Trani poi proseguono i lavori stradali proseguono si 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 ci sono asfaltature interventi al basolato ovviamente un po' di disagio lo crea però dateci una mano anche voi siate comprensivi non vi rompete sempre l'anima e le buche stanno solte quando le riparano fatele riparare almeno ah una piccola raccomandazione a chi ripara le buche o chi mette l'asfalto mettete la garbata l'asfalto la regola e poi se le viene a rete e poi fate una regola l'arte l'asfaltatura viene fatta tutta garbata so che non ci sono soldi ma mettete di tasca evidenziate l'ebook con un fior poi dobbiamo fare i complimenti al centro studi canatesciotto di trani che è salito sul podio con tanti tantissimi atleti tranesi ad una gara internazionale di karate a Roma si il maestro chi è? il maestro Francesco Di Bari salutiamo siamo Francesco salutiamo anche il maestro Nicola Lopriero della Giugno Trani gran premio di giovanissimi di lotta greco-romana-varese e quindi ci sono veramente tantissimi risultati ieri in occasione dei 60 anni dell'associazione FIDAS FIDAS ha organizzato un tour nazionale partendo ovviamente da Molfetta della Mongolfiera con un nostro tranese il vincitore di Italia's Got Talent Stefano Scarpa c'è il video c'è il video e c'è il video vabbè detto queste notizie insomma non vorrei annoiare non vorrei solamente ricordare queste cose poi ricordatevi che domenica saremo ovviamente qui nella diretta radio show dalle ore 10.30 con la speciale Palme vogliamo cantare un'altra canzone il Riccardo il Riccardo signora è sempre quello no 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 allora l'amico mio Reitano il Mino aveva un cuore aveva un cuore che ti amava tanto perché oggi è dedicata alle nostre moglie a tua signora aveva un cuore che ti amava tanto aveva un cuore che ti amava tanto va bene va bene fammi travestire vai si va adesso è da travestire da Mino Reitano vediamo un po' ecco preparati ecco signori arriva dalla redivivo redivivo il nostro Mino Reitano ecco si è tolto la giacca mettiti un cappello rosso mettiti quel cappello rosso dai no lui stava senza cappello senza cappello viene viene dinocolante dinocolante ecco ecco sei pronto ciao saluta ciao 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 a tutti gli italiani ecco dedicata sempre alla signora Angela ciao Angela grazie a tutti oggi no dobbiamo saltire i miei vent'anni bravo non devi sottolineare molto quasi che me ne faccio che me ne faccio se questo mondo ciao avevo avevo un cuore che ti amava tanto che si è perduto per roverti bene io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi e di salvarmi se lo vuoi e questo cuore che mi amava tanto e di cerco in questo mare di silenzio mi ha detto mi ha detto che si vive di speranza se tu lo vuoi mi aiuterai sei stato come come un fiore a primavera nel posto giusto ciao Angela salutiamo Angela Angela per questo amore imitare imitare ti ho dato tutto tutto avevo un cuore che ti amava tanto e non rinuncia a perderti per sempre io chiedo a te di tendermi una mano e di salvarmi se lo vuoi e questo cuore che ti amava tanto e ancora vivo e non sa fermarsi in questi occhi leggi la mia vita che si è perduta senza te eh 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 Beh, questa la devi cantare, se non la canti, tu la canto io Sì, sì E cambi anche tu, dai, dedica dei tuoi Strangers in the night Accenture cleanses Vodere in the night What were the changes Where we share your love Before the night Was food So feel in your eyes Was so inviting So feel in your smile Was so exciting So feel in my heart No me I must have You Strangers in the night Loving people We were strangers In the night After the moment We stayed our first alone In the window Love was just a glance away A warm praising Dance away And every single night We were together Love was just a sight Love was just a sight And love forever Eternals for right Or strangers in the night L'ho fatta così Giusto per fare Lo stacco Anglo 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 Eternals for right Eternals for right Eternals for right Vieni Frank Aiutami Sono la tua presenza Mi fa piacere Averti qui Perché oggi Questa la dedico A tutte E poi Innamorati Alla nostra Angela Alla nostra Titti Soprattutto a lei Dai Love was just a glance away A warm praising Dance away And every single night We've been together Love is first sight In love forever Eternals for right For strangers in the night Do 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 Da 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 Spera Questa cazzone Lo dica D'Angela Signora Spera Io nella notte Se vuoi Ti posso far fare anche My way Dai fai my way My way in italiano Ah Vediamo se c'è l'italiano Scusa My way in italiano Dai Vediamo my way in italiano Sto concludendo Gli studi Italia Va bene Va bene English Vediamo my way in italiano Fra maggio o giugno Vedrete che La dobbiamo cercare Sul 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 tubo Sul tubo Sul tubo Sul tubo Però Rimandiamo l'appuntamento Con my way In versione italiana Italiana Chi la cantava? Chi la cantava? Ricordi? Dai Il nostro friend Fred 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 Bungusto Fred Bungusto L'ha fatta Fred Zinata Ma non in italiano Perché in italiano L'ha fatta Semplicemente Solo Fred Bungusto Dai Si chiamava La mia via Se lo ricordo Il titolo esatto Era più o meno Quello La mia? La mia via La mia via Non credo Non ricordo bene Non ricordo nemmeno Io Vabbè Lasciamo bene Via Stop Stop Facciamo un Un brano a lei Una cosa a lei Salutiamo Dai Poi alla fine Cappelli biondi No no Bertacolli La mia mamma Che mi vuole Non aspetta Cappelli biondi Ma è a lei Io la sento Molto Floscia Ciao Claudia Ciao C'è Marianna Sta guardando Ciao Marianna No mi raccomando Vedi che c'è capitano Ma siamo in diretta Vai a controllare Controlli Siamo in diretta Sì 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 Siamo sempre in diretta C'è Claudio Marchisio Antonacci Ciao Claudia Ciao Claudia Claudia Marchisio Antonacci Ovviamente Stiamo guardando Stiamo guardando Tutti i nostri amici Che stanno guardando Basta così L'ultimo brano L'ultimo brano E poi Andiamo Sennò poi C'è c'è da fare Devi andare alla festa A festeggiarli A fare la festa La signora Angela Ciao Comunque quando festeggiate La prossima volta Invitatevi Ma io ti ho invito Già stasera Ah mi hai invitato No No Ma tu sono Vabbè Ma non ho chiesto Ma la festa Sono dito ormai C'è 39 39 39 Per almeno 19 Mi auguro che questi Diciamo 39 Saranno tutti Parenti stretti Molto stretti Tante stretti Che stiamo vicino Va bene Comunque Questa canzone E per completare Questo nostro Intervento Perché capelli biondi Perché La mia moglie C'è La mia mamma Vi vuol dare un marito Al lunedì Al lunedì c'è Già martino Che ci porta Il tuo vicino Cara mamma La mia mamma E voi spose Ma sposarmi Non vi va E la mia mamma A mia mamma Vi vuol dare un marito Al martedì A lunedì c'è Già martino Al martedì c'è Giannicola E la mia mamma Ma sposarmi Cara mamma La mia mamma Che vuol sposarmi Ma sposarmi Non vi va La mia mamma Vi vuol dare un marito Al mercoledì A lunedì c'è Già martino Al martedì c'è Giannicola Mercoledì c'è Già tovi Tanta tanta Compa mia Cara mamma La mia mamma Vuol che sposarmi Ma sposarmi Non vi va La mia mamma Vi vuol dare Un marito Al giovedì A lunedì c'è Gianmarcina Al martedì c'è Giannicola Mercoledì c'è Già tovi Al giovedì c'è Enrico Maria E mi fatta compagnia Cara mamma La mia mamma Vi vuol sposarmi Ma sposarmi Non vi va Non vi va La mia mamma Vuol dare un marito Al martedì Ancora A lunedì c'è Gianmarcina Al martedì c'è Giannicola Mercoledì c'è Già tovi Al giovedì Enrico Maria Al giovedì Enrico Maria Al giovedì c'è Suo fratello Che campione Tirocatello Cara mamma La mia mamma Vuol che sposarmi Non vi va Non vi va La mia mamma Anche sabato E la domenica per finire Sono stanca da morire Cara mamma E la domenica per finire E la domenica mi riposo Resto a casa E mi ridetto In libertà E la domenica Che l'ho detto Resto tutti i giorni A letto Cara mamma Ma La mia mamma Non vi costi Vuol che sposi La mia mamma Non lo sa Che sposarmi Non mi va Mamma 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 C'è tutta pasta fresca In corso Don Luigi Sturzo Oh mi raccomando Se volete Tortellini con le gambe Se volete Domenica mattina Programma Domenica mattina Domani è sabato E andiamo a fare Le serate Dove Primate Io sarò lo sporting Se vi può interessare Sporting di Trani Di Astor Piazzolla Poi siamo ovviamente Alla Domenica mattina Siamo Alla 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 Radio show qua E A capo italiano Io ripeti Con l'inaugurazione Beh Ci mani Domenica Arrivederci Arrivederci Arrivederci